E' il prossimo primo novembre che la Turchia si recherà le urne per le elezioni politiche anticipate. A dirlo, la Corte Suprema, dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dato al leader del partito giustizia e sviluppo, Ahmed Davutoglu, l'incarico di formare un governo ad interim. Devo formare un governo di transizione in cinque giorni. Tutti i partiti politici dovranno essere rappresentati in base ai voti che hanno ricevuto. Anche se i leader dei partiti di opposizione hanno respinto le mie proposte, io devo cercare di coinvolgere comunque l'opposizione in questo progetto. Il gabinetto ad interim sarà costituito dai deputati della KP e del partito procurdo HDP, dice il suo leader. Non ci dovrebbe sorprendere se violano la Costituzione. Accade ogni giorno. Non passa ora senza che commettano un crimine istituzionale. Se però il muro contro buro dovesse persistere e la stessa Costituzione a fornire la soluzione, il premier designato potrebbe cercare fuori dal Parlamento i nomi per formare il nuovo governo.